Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera, bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale. Siamo ormai nel weekend del lungo ponte del primo maggio e quindi proprio per una giornata all'aria aperta vi proponiamo diversi appuntamenti in programma venerdì primo maggio. A Clusone, bimbi in bici, pedalata di 5 km su pista ciclabile per bambini e famiglie. Ritrovo dalle 9 alle 9.45 presso Piazza Manzù. Lungo il percorso animazione musicale, gincana e percorsi per bambini. Pranzo alle ore 12.45 in Piazzale Manzù. Per i più sportivi a Fiorano al Serio torna la Maratona della Valle Seriana, giunta quest'anno alla 42esima edizione. Ritrovo presso il centro parrocchiale in località Semonte dalle ore 7, con partenza dalle 7.30 alle 9, su percorsi di 6, 10, 16 o 20 km. Infine a Peia i Enkiran, corsa in notturna con partenza alle ore 18 dalla Piazza della Pace. Per gli amanti della natura a Val Bondione, andare per Stambecchi. Passeggiata verso il borgo di Maslana alla ricerca degli Stambecchi. Pranzo al sacco e proiezione di diapositive e filmati presso l'osservatorio. Ritrovo alle ore 10 presso il Palazzetto dello Sport. Iscrizione obbligatoria. Sabato 2 a Colere, grande concerto del 1 maggio presso il Palacolere. Dalle 16 apertura manifestazione con il gruppo No Name. A seguire il servizio ristoro. Alle 21 concerto di Alessandro Sipolo e dalle 22.30 concerto dei Gang. Sempre sabato 2 a Parre, la Croce Rossa italiana presenta una serata informativa per le manovre di rianimazione cardiopolmonare, disostruzione e per il sonno sicuro. Dalle 20.30 presso la Sala Teatro. Numerosi nel fine settimana i percorsi turistici e le visite guidate. Venerdì 1 a Clusone, dalla mostra alla bottega Cristilli Scatti del Novecento ai luoghi turistici d'Epoque. Una visita approfondita al Museo Arte e Tempo di Clusone, dove si ammirerà la mostra della bottega Cristilli. La visita si concluderà poi con un aperitivo a tema Novecento. Ritrovo alle 15.30 presso il Museo Arte e Tempo. Prenotazione obbligatoria al numero 035 70 40 63. Sabato 2 ad Alzano Lombardo, strade d'arte. Visita all'ex cementificio Italcementi, alla Basilica di San Martino, dove è esposta la Pala di Palma al Vecchio e al Palazzo Pelliccioli. Ritrovo alle 15.00 presso il parcheggio Italcementi, stazione Tebb di Alzano Sopra. Per l'occasione, dalle 16 alle 18, apertura straordinaria del Museo Alt, Arte, Lavoro e Territorio. Sabato 2 a Cerete Alto, scrigno d'arte e cultura. La chiesa di Cerete Alto e la Cappella dell'Annunciata. Una visita da non perdere alla Cappella dell'Annunciata sulla piazza principale. Un piccolo gioiello affrescato voluto dalla facoltosa famiglia Marinoni. Ritrovo alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Cerete Alto. Sabato 2 maggio a Gromo, alle 15.30, visita guidata al MAP, Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene. Domenica 3 maggio a Gorno, visita guidata al Museo delle Miniere e al sito minerario di Costa Iels. Ritrovo alle ore 14.00. Domenica 3 maggio a Fino del Monte, Misteri e tesori del Paese, spiegati ai più piccoli. Breve itinerario storico a misura di bambino con racconti dell'antico convento e del castello medievale sulla famiglia dei Nomoli da Finne. Con laboratorio creativo finale che prevede la costruzione di un castello o di accessori alla moda medievale. Presso piazza dell'Olmo, ritrovo alle 15.30. Domenica 3 maggio a Leffe, Festival del Tessile con l'inaugurazione del Mulino ad Acqua e del Museo del Tessile. Dalle 14.00 alle 19.00, visite guidate gratuite al Museo con la messa in funzione dei macchinari e corsi sulle lavorazioni tessili che si possono riprodurre a casa, come la lavorazione del tombolo, l'uncinetto e la maglia. E passiamo ora alla consueta notizia da Promo Serio. Grazie alla collaborazione tra Promo Serio e il Comune di Gromo, saremo presenti a Expo dal 4 al 10 maggio. Un'intera settimana per far conoscere a turisti e visitatori le bellezze della Val Seriana e dell'antico borgo di Gromo, eletto dal Touring Club tra i borghi più belli d'Italia. Ricordiamo che i biglietti d'ingresso a Expo sono in vendita anche presso l'ufficio IAT di Ponte Nossa e presso gli uffici turistici della rete Promo Serio. E con questa notizia anche per questa settimana è tutto. Io come sempre vi ricordo il nostro sito www.valseriana.eu e vi do appuntamento al prossimo mercoledì. Buona serata.